Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con WWE, 2K18 e oggi faremo un match che è stato preannunciato per Wrestlemania 35. Più che preannunciato ancora non è sicuro al 100%. Allora, esibizione 1 contro 1, normale. Faremo Undertaker versus Shawn Michaels con manager Triple H. Poi cambiamo l'arena. Metterei... Allora, mettiamo un po' quale Wrestlemania abbiamo. Purtroppo non posso usare quelle che ho scaricato di Wrestlemania. Mettiamo Wrestlemania 32. A rintocco delle campane tutti quanti in piedi. Raga, per me l'emozione è troppo grande. Non so come stalla a descrivere. Cioè, anche se l'Undertaker adesso ormai è arrivato a un punto che non combatte più come combatteva di una delle sue prestazioni, sono calate. Però per me è sempre Undertaker. Ogni volta che sento queste campane, io mi alzo in piedi. Qualsiasi età che lui può avere. Io se ho 60 anni, 70 anni e ritorna. Per me è sempre Undertaker. Però purtroppo devo saltare perché, come ho detto prima, c'è il copyright e non sentirete la musica di entrata. Potrebbe anche essere il contrario a Wrestlemania 35. Per essere anche Undertaker onto Triple H con l'arbitro speciale di Shawn Michael. Eh volevi eh Shawn. Cosa vuoi Triple H? Oh, let's quickly get your opinion on the Undertaker. It'll be interesting to see how he plans to get it done. What do you think? I was just thinking about something. I would pay Mr. McMahon for this job. And he actually pays me. Una reazione di Shawn Michael, finalmente c'era che diventi che sia un bel match questo. Non voglio che sia attenzione, unico, perché è un po' scarico. A parte ha sempre messo la differenza leggenda. Però a tante volte sembra troppo semplice questo gioco. Mi so il motivo. Siamo pronti per la Shock Slam. Siamo pronti. Eccola. Ancora. Eccola. 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 è il favore di questo match ma sicuramente non si sembra come il favore di questo momento attenzione arriva una reazione di Sean Michael che già attiva il comeback guarda Triple H come sta cercando di vincere il sport chiara del culo stavolta prova subito un roll up Undertaker 1 2 Marta Shot Slam ma è giusto così mi piacciono i match combattuti adesso non la posso proprio schivare però comunque siamo ancora bianchi quindi possiamo liberarci dallo schienamento sui chien music boom Shawn Michaels has fought his way all the way back into this match and now looks like he just might win this thing The Undertaker powers out yeah it's gonna take more than that he misses the dive and unfortunately for him there was no water in the pool plenty of force behind that strike even more kicks ha la testa arancione però mi sa che anche Sean Michael ha la determinazione non vorrei infatti schienarla adesso voglio avere almeno un paio di mosse finali questo è bene last ride powerbomb siamo pronti forte è venuta eh non dovrebbe averla scrivata questa è la sentita eh tanto se ora provo a schienarlo ci sarà Triple H che protesterà però noi ci proviamo lo stesso hai visto mai rest in peace vai albino no Sean Michaels è tosto e ora mi metto l'angoletta rivedo un po di stamina lo sapevo però stava vedendo interculo però adesso non c'è la coppia di schivate stavolta potrei vincere se non si intromette Triple H hai capito Shawn Michaels è quanto è tosto ragazzi quanto è tosto bellissima quando sono stanchi ma adesso si c'è la testa rossa su Dar adesso chiamano la Shot Slam Undertaker e il Shot Slam sarà adesso possiamo fare il finale come vogliamo noi tanto non scommetto che faremo che volete ci interromperà speriamo di no questa volta ho vinto no e ce la fa ancora Shot Slam no si ma non posso schivare ma raga non appare più il coso per schivare la scritta cioè non mi sta più a parire adesso forse ho schivato si adesso sta diventando interessante no non devi buttare Triple H lasciamo perdere Triple H che fino a sta a far bravo Rom� ini adesso dai dai che riesce dai cosa sa di no non hai la schivata no 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 questa volta ci siamo ce l'abbiamo fatta grande Undertaker WrestleMania tua ragazzi vorrei sapere da voi cosa ne pensate di un possibile match tra Undertaker e Shawn Michael previsto per WrestleMania 35 e cosa pensate insomma del wrestling di oggi scusate c'è un po' di mal di cola di cosa ne pensate del wrestling di oggi e di quello lato di ieri poi se volete altri video inerenti a WWE scrivetelo sotto nei commenti che sarò felice di accontentarvi tutti se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete ed iscrivetevi al mio canale ci vediamo al prossimo video ciao